Ciao Gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen, siamo tornati oggi su WWE 2K16 Ragazzi, sono nella modalità Universe, voglio proseguire questa modalità E ragazzi, questi sono i match che mi mancano Allora, Nikki Bella vs Paige, poi abbiamo Daniel Bryan contro Jack Swagger Poi abbiamo la tag team di Kingston e Woods contro O'Neill e Young Poi abbiamo Rollins contro Reigns e infine Lesnar contro Dan Ambrose Ragazzi, io ora in questo video vi farò vedere un riassunto Alcuni match li andrò a simulare, altri li giocherò Però ragazzi, vi farò un riassunto di questi 5 match che mancano alla fine Così poi possiamo andare avanti Quindi ragazzi, ora vi lascio al riassunto di questa prima giornata della Universe Mode Allora ragazzi, questo primo match l'ho simulato E ha vinto Paige contro Nikki Bella Ora andiamo al secondo match che è quello di Daniel Bryan contro Jack Swagger Che succede qui? Allora, partecipo ragazzi, io partecipo e scelgo Daniel Bryan che è stato appena colpito Attenzione ragazzi, ecco che mi sto alzando Eh, subito contro mossa Mamma mia, mi ha già colpito Swagger Qua contro mossa subito Attenzione Colpiamolo Qua R2, vediamo dove l'ha fatto la contro mossa No, non ci sono riuscito Mossa subito, buttato giù Allora sbaglia tutto qui Attenzione Mi ha preso Eh, mi ha buttato giù con un sacco di patate Quindi non mi dà neanche purtroppo l'R2 Ecco qua ragazzi, mossa di Swagger Tremenda, devastante No ragazzi, ci ha buttato sul ring Come back subito E allora 1, 2, calcione Attenzione qui Attenzione qui Grande mossa Grande mossa Attenzione, attenzione Potremmo Potremmo schienarlo Grande mossa Attenzione, proviamo a schienare subito Swagger Vediamo se ce la facciamo No ragazzi, non ce l'abbiamo fatta Allora Ecco qua ragazzi, ci ha appena preso Eh, penso che qua il match si conclude Mamma mia ragazzi Infatti Uh ragazzi, ce l'ho fatta No ragazzi, qua mi ha preso Attenzione Sono uscito dalla mossa Ma no Mi ha fatto la contro mossa ragazzi Niente da fare Qua ci sta provando a schienare Attenzione No ragazzi, non ce l'ho fatta Allora ragazzi In questo primo match quindi Ha vinto Swagger Preschinamento Contro Brian Che avevo appunto Impersonato Eh, ma c'è stata l'introduzione Sua Che ha Ci ha praticamente distrutti Eh, qua si è creata Una nuova rivalità Ok ragazzi Eccoci qui Al tag team Mi ho scelto Di stare Con Woods e Kingston Eccomi qua subito Cazute cattivo Attenzione qua Contro mossa però Subito cazute cattiva E allora andiamo noi ora Attenzione qua Grande mossa Ancora noi qua Attenzione Grande Colpo in faccia Ci ho provato ragazzi Con R2 Nulla da fare Guardate Mi ha preso come un sacco di patate Attenzione allora Contro mossa Ce l'abbiamo fatta E allora No ragazzi Contro mossa da parte Ma bellissimo No ragazzi Sono riuscito a fare Con R2 Mossa E qua mi proverà a schienare Non immaginavo Eh ce l'ho fatta ragazzi Al 2 No Troppo presto Mi sta facendo male Ragazzi Mi sta devastando L'attacco di coppia Ragazzi Guardate qui Ecco qua Mi hanno devastato Mi serve l'aiuto del compagno Per fortuna Mossa finale Caricata ragazzi Attenzione Attenzione alla mossa finale Caricata Eccoci qua Subito ragazzi Allora Subito 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 Schienamento Ragazzi Attenzione qua 1 2 3 No ragazzi Ce l'ha fatta E' uscito Ma ragazzi Butta la mossa questa Mamma mia Devastante Questa mossa Attenzione qua Che prova a buttarmi giù Eh per fortuna il mio compagno Mi ha aiutato Attenzione qua Bellissima mossa Grande mossa Attenzione Proviamo subito Lo schienamento Vediamo 1 No ragazzi No Troppo presto Ragazzi No ragazzi Ragazzi Non ce la faccio Qui Niente da fare ragazzi Mamma mia Devastante Questa mossa Ecco qua Penso che ora chiuderà Il match Niente da fare ragazzi Hanno vinto Questo secondo match E' perso Hanno vinto ragazzi Dopo un match Molto Molto Combattuto E molto Sofferto Ragazzi Siamo arrivati Al match numero 6 E abbiamo contro Rollins Contro Roman Reigns E io partecipo E prendo ovviamente Roman Reigns Alziamolo E' subito mossa Guardate qua Roman Reigns Ragazzi Stiamo dominando Per ora Rollins Non ha avuto il tempo Neanche di emettere Un gemito Nulla Mamma mia Ragazzi Roman Reigns Scatenato Ragazzi Tipo salamino Beretta Eccolo qua Ancora Qua Ce l'ha fatto Una mossa Rollins Qua ce l'abbiamo Fatta invece L'abbiamo preso Attenzione ragazzi Qua Subito No Contro mossa Ancora Contro mossa E allora Roma Reigns Subito Ecco qua Mossa finale Caricata Ragazzi Attenzione Rollins Pronto È una mossa Finale Caricata Reigns Eccolo qua E' per questo Ragazzi No ragazzi Incredibile Cioè Si è subito Rialzato Dopo una mossa Finale Caricata Che cazzo Ha fatto Ragazzi Non ci credo Ragazzi Non ci credo Ragazzi Il match Sta facendo Più duro Di quello Che potessi Pensare Ragazzi Mi ho buttato giù Non so se ce la farò Uh ragazzi Ce l'ho fatta Al tre Per fortuna Ragazzi No ragazzi Lui c'è di nuovo Io c'ho Lui c'ho la C'ho la final Di nuovo E lui c'ho la special Ragazzi Attenzione Troppo tardi Ragazzi N'è nulla Da fare Ragazzi Nulla Da fare In questo Penso che si chiude Il match A suo favore No ragazzi Non ce l'ho fatta Con la final Con la final Lo dobbiamo Prendere ragazzi Attenzione Lo dobbiamo Prendere ora Ragazzi La final Mossa finale Caricata Vediamo ora ragazzi Se riesco A farlo stare Giù Mossa finale Sì ragazzi Ecco qua Mossa finale Di Roman Reigns Ragazzi Con questo Dovrei aver vinto Ragazzi Vediamo un po' Schienamento Subito 1 2 3 No ragazzi No ragazzi Non ci credo Sono qua ragazzi Devo spostarmi Spostati Spostati Sì Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Attenzione Schieniamolo ora Che si è devastato Da solo 1 2 E 3 No ragazzi No No Niente da fare Al quasi 3 Attenzione qua Roman Reigns Ragazzi Mossa ancora Vediamo se ora Ce la faccio Vediamo 1 2 3 E ce l'abbiamo fatta Ragazzi Finalmente Abbiamo Vinto Ok ragazzi Eccoci nell'ultimo match Con Brock Lesnar Contro Daniel Ambrose Io ho scelto Brock Lesnar Ragazzi qua Attenzione Ambrose Ci sta Picchiando Attenzione Ambrose Lesnar ancora Ma Sbaglia il calcio Attenzione qua Nulla da fare Reagisce ora Lesnar Lesnar Ha la reazione Subito Ecco qua Buttato via Daniel Ambrose Ragazzi Non so se avete notato Lesnar E Ambrose Sono dei super saiyan Vedete Hanno quell'aurea gialla Attorno Che non so da cosa è dovuta Mi chiamerò Brock Goku Lesnar E qua Cazzottone Grande Brock Lesnar Che si è incazzato Mamma mia Guardate Lesnar ragazzi Ecco qua Ambrose Buttato giù Come un salame Abbiamo La final Attenzione ragazzi Abbiamo la final Sono alla final Eccoci qua Ecco qua ragazzi No si è liberato Attenzione Ah bella mossa Questa ragazzi Dalla terza corda Giù Ci prova ancora A schienare Ma ragazzi Non ha capito nulla Forse Mamma mia Lesnar ragazzi Lesnar secondo me Si è incazzato Attenzione ragazzi Mossa finale Ora mi è riuscita Finalmente mi è riuscita La mossa finale Lesnar Attenzione Attenzione Due E tre ragazzi Qua Posso chiuderla Uno Due No ragazzi Ce l'ha fatta Si è liberato No ragazzi Si è liberato Attenzione ora prova lui Ovviamente non ce la fa Ovviamente non ce la fa Dai 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 Vattene 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 No Mossa finale ragazzi Mossa finale Eccola qua Attenzione Bam Uno Attenzione Bam Due E tre ragazzi La power bomb di Brock Lesnar Con questa dovrei poter chiudere Uno Due Tre E vince ragazzi Abbiamo vinto con Brock Lesnar L'ultimo incontro di oggi Lesnar ha dominato Lesnar ha dominato ragazzi E' una bestia Vedete qua Ambrose non ha accettato La mano da Da Lesnar Quindi qui si crea una rivalità Ok ragazzi Allora Dopo che avete visto Il riassunto di tutti i match Quindi questi sono i risultati Allora qui Nel triple treat Ha vinto John Cena Come vi feci vedere Nello scorso Episodio Quindi Page ha battuto Nikki Bella Poi Qui Swagger ha battuto Daniel Bryan Qui Il tag team E' stato vinto da O'Neill e Young Contro Kingston e Woods Undertaker Ha vinto contro Shimus In un vecchio video Che fece Andatevela a vedere Sotto vi lascio Anche il link Poi Qui Rollins ha perso Contro Roman Reigns E infine Lesnar ha battuto Dan Ambrose Allora ragazzi Siamo arrivati Al mercoledì sera E questi sono i match Invece che giocheremo Nel prossimo episodio Allora Sin Cara contro Dan Ambrose Poi abbiamo Un tag team Di English e Goch Contro Cassidy E Amore Poi abbiamo Belor Contro Zayne Nella NXT E infine Abbiamo Owens Contro Itami Quindi questi ragazzi Saranno i 4 match Che vi farò vedere Nel riassunto Del prossimo video Ok ragazzi Allora Se vi sta piacendo Questo modo Di fare Un riassunto Di tutti i video E alcuni simularli Lasciatemi un like Commentate Mi raccomando Se avete fatto Iscrivetevi al canale Ovviamente condividete Fatelo conoscere Anche i vostri amici Sotto in descrizione Trovate i miei contatti Sui social network Instagram Facebook E Twitter Qui da un genere 83 Tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao gamers Ciao gamers